Spregatevi! Papà, dove stiamo andando? Forza, siamo quasi arrivati! Devo riposarmi! Non c'è tempo! Coraggio, tesoro! Siamo quasi arrivati! Segui i guardi! La Pollon ha un rifugio sicuro! Dove siamo? Quello l'hai costruito tu! Su, entrate! Coraggio, ragazzi! Dentro, dentro, dentro! Non prendete dentro! Papà, ho paura! Devi averne! Qui siamo al sicuro, non preoccuparti! Pronti per la disinfezione? Disinfezione! Non devono entrare agenti patoteni! Va avanti! Segui tuo padre! La Pollon ha costruito questi bunker per gli eventi catastrofici! Eventi catastrofici? La situazione è grave! Non voglio stare qui! Tranquillo, non preoccuparti! Vedrai che presto torneremo a casa! Ecco il manuale! Con tutte le informazioni! Per quanto stai via? Non so dirtelo! Via! Mamma! Sapevate che sarebbe successo? Non so Donavi!' Non sobat! Per quanto stai via? Per quanto stai via?